C'è qualcosa di più stimolante di fare un gol a San Siro? Fare il secondo, fare il terzo, fare il quarto probabilmente. Pobega dentro per Teoteo. Teoteo, Pobega! Gol! Bravo Tom, bravo! Tom Pobega, ti deve dare fiducia a questo gol Tom, Tom. Siamo il primo e l'abbiamo fatto, adesso puntiamo agli altri. Dal Colle di San Giusto, appena sopra Trieste, si vede un bel panorama, si vede il mare ed è questo panorama che ha accompagnato la crescita anche calcistica di Tommaso Pobega, i suoi inizi. Noi siamo qui per raccontarvela, andando a scoprire qualcosa di più del nostro calciatore, il nostro centrocampista del Milan. Lui è iniziato a giocare a palacanestro, ha fatto il primo anno di palacanestro e poi a palacanestro non si facevano le partite, lui voleva fare le partite come faceva il fratello e di conseguenza a questo punto siamo andati a giocare a calcio. Siamo andati su a Melara, l'ho portato su nella squadra di San Luigi e appena che è arrivato l'allenatore gli ha gettato la palla per terra, lui senza pensare l'ha calciata. A quel punto l'allenatore ha detto va bene, lo possiamo prendere. Io la prima volta che l'ho visto è venuto col papà e mi ha chiesto di portare il ragazzo a calcio, ma era piccolo, era piccolo. Ho detto ma diamogli un pallone. E il papà me lo ha ricordato giorni fa, hai avuto occhio e naso perché gli ho detto subito portalo subito perché già da quell'età si vedeva che aveva un gran talento. Già dagli occhi si vedeva che era uno vispo vivo, a quell'età non puoi capire dove può arrivare, però lui aveva una base di partenza già notevole quando era molto piccolo. La sua vivacità, il suo dinamismo era al di sopra della media, poi era di carattere un ragazzino splendido. Io l'ho allenato tre anni fino alla soglia dei pulcini, quindi era molto piccolo, però in tre anni non ho dovuto mai riprenderlo. Era vivace ma molto educato, molto comprensivo con gli altri e poi cresceva di anno in anno in maniera esponenziale. Io l'ho seguito anche indirettamente all'età di 14 quando ha fatto il salto che è stato preso dal Milan e quindi già lì aspettavo che qualche società di spessore, di serie A, lo vedesse e lo prendesse. Facciamo un piccolo salto indietro, non era così il campo, era in terra, era in terra rossa? No, era in terra rossa. E però chiudi gli occhi e vedi entrare Tommaso da quella porta lì. Esattamente, da quella porta lì del cancello vedo che il nostro collaboratore mi indica e vedo che parlando con un papà e un bambino mi indica per avere, ho capito, ero qui in campo con altri ragazzini, avevo capito che voleva delle informazioni. E a un certo punto il papà mi ha chiesto quando poteva incominciare e io in quel momento l'ho guardato, l'ho visto che era con una magliettina, cartoncini corti, un paio di scarpette da ginnastica e ho detto, boh, c'è per me anche subito. Al che Tommaso chiaramente si è voltato verso il papà, l'ha guardato implorando e il papà ha detto, boh, va bene. Allora gli ho lanciato una palla pensando che lui la prenda con le mani, come succede, tutti i ragazzini piccoli tendono a prendere la mano, invece lui non l'ha presa nemmeno con la mano, ha tirato una cannonata di sinistro e la palla dal cancello è arrivata fino in quella porta lì. Quindi a quel momento ho capito subito che provino ha superato, tanto è vero che a casa quando è tornato il suo papà mi diceva che come è entrato a casa è andato dalla mamma tutto contento, diceva mamma sai mi hanno preso. Era sempre molto vivace, vivace, curioso, parlava tantissimo, lui era uno proprio dalla parlantina sciolta e un bambino tranquillo, contento dei suoi traguardi, delle sue cose, aveva diversi amici. Poi giocava tanto anche con gli amici del fratello, quindi si rapportava sempre con bambini più grandi, di 5 anni più grandi, quindi secondo me questo l'ha aiutato tantissimo nella sua crescita, perché rapportandosi con i bambini più grandi aiuta tanto per tante cose. Il primo ricordo non è proprio nell'ambito agonistico, però più nell'ambito diciamo familiare con gli amici e tutto. Ma parliamo di calcio o di basket? No, di calcio. Il calcio è anche palla canestra, diciamo, giochiamo entrambi gli sport in base a che tipo di tipologia di campo troviamo in giro le domeniche e i weekend. Noi ci siamo conosciuti tantissimi anni fa, praticamente 15 anni fa, ci siamo conosciuti in un camp estivo dell'Udinese, tra l'estate, tra la quinta elementare e la prima media di Tommaso. Poi casualmente è venuto nella mia stessa scuola dove andavo io alle medie e da lì è iniziata una grande amicizia. Abbiamo iniziato a giocare assieme nella Triestina. Infatti esatto, raccontami un po', tu giochi ancora adesso, giochi in eccellenza e l'inizio però è stato insieme? Sì, l'inizio è stato assieme, diciamo, non proprio agli albori. Abbiamo iniziato verso giovanissimi a giocare assieme e lui era già molto forte. Poi lui ha continuato un percorso un po' più importante al Milan e io ho continuato a giocare qui in categoria. Noi ci sentiamo praticamente ogni giorno. Poi il rapporto, io cerco di andare a trovarlo il più possibile quando ho tempo e non gioco io. Vado a Milano, vado da lui e poi le vacanze le facciamo sempre assieme, quindi il tempo c'è per vedersi. E senti, l'emozione di vederlo in campo, come segui le partite tu? Raccontami un po'. Io, anche se sono fuori casa, dico alle mie ragazze, dovevo tornare a casa, gioco a Tommaso e quindi le seguo tutte. E poi, ripeto, quando ho tempo vado a vederlo, magari a San Siro o indifferente dove gioca, è sempre un'emozione incredibile. Poi quando segna è da brividi. Spiegami un po' come l'hai vissuta questa crescita continua che ti ha portato adesso a guardare Milanello da uno dei padroni di casa, perché ormai sei l'elemento prima squadra. Beh, è stato un processo lungo, bello, formativo. È stato, sì, nel 2014, che avevo 14 anni, sono presentato in convitto, ho iniziato a Vismara con i giovanissimi nazionali, poi ho fatto tutto il percorso come consueto. Una cosa che ho notato è che ho fatto lo switch, che ho cambiato anche come persona. È stato l'ultimo anno di primavera in cui abbiamo avuto Gattuso i primi tre mesi, mi sembra, o tre, quattro mesi. Non mi ricordo quanto è stato di preciso, però... Poi è cambiato con Lupi. Sì, perché poi è salito prima squadra. Mi ricordo che lui è proprio stato uno switch, perché per la prima volta siamo iniziati ad essere strattati da uomini, da giocatori, con anche la responsabilità che questo chiedesse. Ok, magari ci concedeva di più, come anche libertà, come anche richieste all'interneamento, però poi le richieste erano più alte e questo ci ha un po', sì, a me che anche i miei compagni ci ha responsabilizzato e secondo me ci ha fatto crescere molto. E' stato proprio propedeutico poi a quello che sono andato a fare gli anni dopo, cioè rapportarmi magari con un mondo di adulti, con squadre, con compagni di squadra che avevano già anni di carriera e invece io magari mi affrontavo al primo anno. I figli bisogna lasciarli provare a fare le cose, no? Quindi non è stato per niente facile, perché l'anno prima lo portavo dappertutto, gli allenamenti, a scuola e poi è arrivato l'anno dopo, avevo Sebastiano che era più grande, il figlio più grande e già indipendente, cioè aveva cinque anni di più e poi mi sono trovata anche senza Tommaso e quindi è mancato tantissimo in casa. All'inizio sì, è stato, vabbè, io mi ricordo che si andava su nella cameretta e si vedeva questa cameretta vuota con tutte le sue coppe, le sue medaglie, non era facile, anche perché il primo anno non ha giocato niente, ha giocato pochissimo. Mi ricordo che si andava comunque ogni domenica fuori, noi comunque siamo distanti e si giocava alle 11 di mattina, quindi si partiva alle 6 per essere alle 10, 10 e un quarto e quello che era forte è che lui era, era lui triste, dispiaciuto sì, per il fatto che noi venivamo fuori e non potevamo vederlo giocare. Però quello che mi ha sempre colpito, che magari dice, ma perché non ti fanno giocare, il genitore dice, perché ti fanno giocare, tu sei magari più forte dell'altro, lui questo non l'ha mai, non l'ha mai, non l'ha mai detto, non so, la torre sbaglia perché non mi metti in campo. Infatti una volta mi ha colpito una volta che mi ha detto, ma papà guarda noi facciamo la partita il giovedì e c'è la squadra che gioca la domenica e l'altra squadra e perdiamo sempre, quindi è giusto che non giochiamo la domenica, dobbiamo migliorare, essere più bravi, vincere la partita e a quel punto possiamo giocare la domenica. Spieghiamo un po' il passaggio, quanta importanza ha avuto, non dal punto di vista calcistico, ma da quello umano. Ripensandoci dico sempre che è stata per me un'enorme fortuna perché mi ha cresciuto e mi ha fatto maturare tantissimo. Io sono venuto qua a Milano che ero ancora più bambino che ragazzo perché avevo 14 anni ma non ero ancora sviluppato, ero molto piccolo, ero un ragazzo molto eloquace, un bambino molto eloquace ma anche un po' timido, un po' spaventato di alcune cose. Mi ha fatto crescere tantissimo perché arrivi in una città nuova, città grande in cui devi rapportarti con 40-45 ragazzi che sono quelli che sono in convitto, che vengono tutti da paesi diversi d'Italia o addirittura nazioni diverse. E quindi è stato proprio condividere anche la camera perché magari hai due, tre conquilini, quindi anche proprio rapporti umani che devi sviluppare e crescere. Fu la fortuna che qui c'era un bellissimo staff anche a livello di tutor, di aiuti che ci sono al di fuori del campo che sono serviti veramente tanto perché ti fanno vivere un mondo anche al di fuori del calcio. Per non essere proprio totalmente immerso in questo mondo ma anche per staccare un po' perché mai serve, perché mai è il momento che non va bene. Io sono venuto qua il primo anno, non giocavo mai, ho giocato veramente poche partite, mai subentravo ogni tanto. Vabbè che ero un po' più indietro fisicamente, magari avevo delle carenze rispetto ad altri e non è facile. È bello che il Milan riesca a far passare attraverso te che sei l'ultimo ad essere arrivato in prima squadra del settore giovanile, questo genere di messaggio nel senso che il Milan aspetta, sa far crescere il ragazzo dentro fuori dal campo e poi la dimostrazione che poi diventa giocatori veri. Sì, sei stato bravo e fortunato perché mi è stata data molta fiducia, chance anche di aspettarmi, di venermi crescere e anche al di fuori avere un supporto che ti facesse vivere al di fuori, come la scuola, che magari hai incontri di altre persone. Trovare le dinamiche giuste per esprimersi anche non solo come calciatore, dai come un giovane calciatore. Che rapporto hai con la tua famiglia e come ti ha seguito in questi anni? Magari possiamo avere un bellissimo rapporto, magari non comunichiamo tanto a livello di sentimenti, però siamo una famiglia molto legata che quando c'è necessità siamo sempre uno ad aiutare l'altro. All'inizio è stato un po' un trauma, soprattutto per mia mamma, perché comunque vedere il figlio che ha 14 anni va a Milano è stato duro. Ma chi ce lo fa fare a lasciarlo lì? Per quale motivo sta lì che magari soffre, magari non gioca? Noi si andava via da Milano la sera, però quando lo salutavamo lì tornava sereno con i suoi amici, si vedeva che stava bene, anche grazie secondo me a tutto il gruppo di tutor che l'hanno, che lì si è trovato benissimo. Noi ci siamo trovati benissimo col settore giovanile. E che li hanno accolto, hanno accolto. Quindi noi si andava via da Milano e lo si vedeva proprio sereno, tranquillo, perché tornava nella sua realtà. Anche se non giocava, io sinceramente non ho mai avuto la sensazione che il Milan lo facesse tornare indietro. Sentivo che non giocava ma che lo stavano aspettando, che quindi c'era un progetto a lungo termine. Non era un progetto che era finalizzato alla vittoria del campionato di giovanissimi nazionali di quel periodo, no? Era un discorso agli allunghi che poteva venire con gli allievi, poi con la primavera e magari con la prima squadra. Dire che sono contento è riduttivo. Sono orgoglioso di averlo prima di tutto conosciuto. Poi ha allenato a quell'età, onestamente ha fatto tutto da solo. Quello che sono orgoglioso di lui è che era stato un bravo ragazzo. Non si è montato la testa ed è ancora adesso un esempio positivo, altamente positivo, riguardo quello che è il calcio adesso, i bambini di adesso, che non sono i bambini di vent'anni fa. Purtroppo il calcio un po' è cambiato e non sempre in meglio. E lui lo prendo spesso per esempio. Per il suo carattere, per la sua serietà, per il fatto che non si è montato la testa in tutti gli anni e soprattutto anche per il fatto che ha avuto un grande supporto da parte della famiglia. Se lui è arrivato a questi livelli, è molto a merito suo perché, torno a ripetere, è bravo. Però molto merito ce l'hanno anche i genitori. Io li conosciuti bene, sono genitori che non hanno mai interferito nelle sue cose. E lui è cresciuto sereno ed è riuscito, secondo me, a ottenere i risultati anche per questo motivo. Tu puoi avere il figlio bravo, molto bravo, se però non lo sai gestire, spesso non riesci a ottenere quei risultati che magari il bambino o il ragazzino si meriterebbe. Tommy, bello percorrere questo corridoio. Mi piace sempre perché vedo un po' di foto. Io mi ricordo quando tu hai debuttato in assoluto in prima squadra, però devi raccontarmelo tu. Amichevole contro il Bornemoth, nel 2016, Milano di Montella. Milano di Montella. Spiegami un po'. Sì, era a Milano di Montella, mi sembra che era anche lì una sosta nazionale. Era inizio settembre, sì. Mi ricordo che siamo andati in diversi ragazzi della primavera, siamo andati così per fare aggregati, per aiutare gli allenamenti. Così c'era l'amichevole in trasferta a Bornemoth. Ci ha portato, è stata già lì. Per me era una bella emozione comunque andare a fare una trasferta con la prima squadra, avere la prima maglietta con il nome. Ho 17 anni, giusto? Era il 2009, era il 2016. Sì, quindi. Sì, quindi iniziamo. Iniziamo il riscaldamento, stadio bellissimo, campo inglese, così. Era già bello, un po' aggagitato e tutto. E fortuna, nel secondo tempo sono andato a scaldarmi, poi mi ha fatto entrare verso la fine, mi sembra gli ultimi 5 minuti. Però è una bella emozione. È stata, sì, veramente bella. La prima maglietta ufficiale. Ce l'ho ancora? Ce l'ho ancora a casa. Non hai dato a nessuno, quella te la tieni gelosamente. Quella ce l'ho a casa, insieme ad altre che tengo. Quella non si regala. E che altre vorrò tenermi. Arrivando poi anche al capitolo nazionale, che è una delle cose più recenti di cui possiamo parlare, tu debutti, apposito di debutti assoluti, al posto di Tonali, entrando al posto di Tonali nazionale, Nations League. Un 2000, un 99, 100 compisti in Mila, 100 compisti in Italia. bello, anche dal punto di vista lì. È un'emozione che, se guardi a quel debutto lì e pensi a dove sia arrivato al debutto uno dei più freschi, con l'Azzurro, tanta roba. No, è una bella cosa, ma anche proprio per tutto il movimento che c'è e anche per il Milan in sé. Comunque avere giocatori italiani, giovani, che riescono comunque ad andare in nazionale, giocare, fare la presenza, cercare di fare il loro meglio possibile, è sempre una cosa bella. Poi comunque con Sandro c'è un bel rapporto, si sta bene, quindi c'è anche un'amicizia al di fuori del campo e quindi fa solo che piacere condividere questi momenti insieme. Senti, mi parlavi del gruppo azzurro al Milan, ma anche ovviamente il gruppo che sta nascendo con le varie nazionali. Perché ti dico varie nazionali? Perché tu hai fatto una bella esperienza in Under 21, con Paolo Nicolato, hai giocato all'Europeo, hai anche segnato in quel periodo. come vedi, e qui ti faccio una domanda un pochino più difficile, i miglioramenti del calcio italiano essendo all'interno di un gruppo giovane della nuova Italia che nascerà, che sta nascendo? Ma è sempre un discorso un po' delicato e in questo periodo se ne parla tanto. Secondo me non è che non ci sia talento, non è che non ci siano giocatori, non è che non nascano più. È solo questione a volte di saperli aspettare al momento giusto o capire quali sono le necessità che hanno questi giocatori per valorizzarsi al massimo. Io stesso comunque ho dovuto fare un percorso per magari trovarmi a crescere sempre di più, allenamento probabilmente, anno dopo anno. Forse questa è la cosa più importante che sarà da fare con tutti i giovani che sono in rampa di lancio adesso. A questo punto per parlare un po' di passato ma più recente, quindi le tue varie esperienze uscirai sui campi e andrei sui campi di Milanella. Ottimo, andiamo! Prima esperienza in assoluto nei professionisti 2018-19 a Terni, quindi anche discretamente lontano sia da casa tua che da Milano. Un concetto, una parola, qualcosa che ti rimane da quell'esperienza lì se vogliamo sintetizzare al massimo. Penso che sia stata una delle prime esperienze in cui le cose non sono andate così tanto bene perché a livello di squadra abbiamo avuto diverse difficoltà, abbiamo avuto anche un periodo di contestazione da parte dei tifosi, quindi è stato forse proprio... Più crescita di così è difficile. È stato forse proprio il primo impatto con la prima squadra a 360 gradi, quindi tifosi, critiche... Quindi poi da quel punto di vista mi ha fatto maturare sicuro. Poi si è passato a Pordenone, realtà importante perché si stava in quegli anni affermando diventando una realtà, tornando ad essere una realtà importante e tu hai fatto doppiatta la prima in Serie B, giusto? Sì, è stata una bella esperienza. Nettamente più vicino a casa, hai aiutato anche questo? Nettamente più vicino a casa, mi sono riavvicinato e ho trovato un bellissimo gruppo. Loro venivano dalla vittoria l'anno prima della Lega Pro, della Serie C, quindi erano un gruppo molto affiatato in cui il direttore, il ministero, il presidente, ha cercato di non toccare troppo l'asse della squadra e quindi siamo riusciti a fare un bellissimo campionato che alla fine ci ha portati ad essere i quarti in classifica, a giocarci play-off e per poco magari non andare addirittura in Serie A. È stato un bel anno in cui ho trovato un mister che mi ha dato tanta fiducia come Tessere, mi ha fatto crescere proprio molto a livello di campo in cui prendermi più responsabilità, essere più cinico, più obiettivo per raggiungere la vittoria e quindi è stato un anno che porto molto... Nel cuore? Sì, mi è rimasto molto. Parlavi di allenatori e mi fai un assist perché poi l'anno dopo, che forse io mi sbilancio poi mi correggerai se non è vero, è forse quello più importante in assoluto finora perché Spezia, primo anno di Serie A, trovi una dimensione diversa da quelli degli anni precedenti perché arrivi nel calcio veramente dei grandi e trovi italiano, giusto? Più importante... Difficile dirlo. È difficile dirlo perché ogni allenatore mi ha sempre lasciato qualcosa. Ogni anno per me è stato sempre un anno di crescita non solo di categoria ma proprio tecnico, umano quindi sarebbe riduttivo per gli altri allenatori definirli magari meno. Però è indubbio che è stato il mio primo anno in Serie A, il primo anno in cui affronti davvero il calcio che magari sono da bambino, gli avversari che prima vedi mai in televisione e ho avuto un mister molto competente, molto bravo come italiano che ha permesso sia a me che a tutta la squadra di cercare di togliersi magari quelle tensioni, quella difficoltà magari da esordiente, ma di giocarsi a viso aperto e dire io me la gioco, ogni partita me la gioco. Poi l'obiettivo è vincere ovviamente, se la perdi non importa, ho dato tutto, me la son giocata e questo a me e tutti i nostri compagni ha aiutato nel crescere e dopo siamo riusciti anche a raggiungere una salvezza che non era scontata. Non in molti si aspettavano, inizio anno era difficile pensarlo. Inizio anno era difficile e non era per niente scontata e siamo riusciti a raggiungerla, infatti è stato comunque un successo a tutti gli effetti. Senti, prima di arrivare all'ultimo step, ovvero a Mister Pioli, perché poi sono curioso di sapere anche il rapporto che hai con lui, stiamo sul tema allenatore che mi sembrava interessante. Juric, Torino, ultima annata prima di tornare appunto a Milano, in prima squadra a Milan, allenatore diverso da italiano che però mi risulta che abbia lasciato anche tanto dal punto di vista anche emotivo, non solo tecnico. Sì, allenatore molto diverso magari come richiesta di italiano, però molto simile come preparazione e come voglia di affermarsi. Entrambi gli allenatori, ho trovato due allenatori molto intensi che volevano tirare fuori il meglio dei giocatori per rendere il meglio durante la stagione. Forse italiano mi ha dato qualcosa di più tecnico, Juric più a livello proprio morale, di intensità, di lavoro, di capacità di giocarsi le partite proprio tutto uno contro uno e devi essere anche pronto mentalmente, fisicamente per dire io me la gioco alla pari, anzi ti voglio battere ogni partita, voglio vincere ogni duello. Ha cresciuto la tua ambizione, è riusciuta a crescere anche l'ambizione o ce l'avevi già a bella alta? Quella è comunque sempre stata alta, è sempre stata qualcosa che è cresciuto col tempo, però ti fa aumentare magari anche più in consapevolezza perché ti trovi veramente a giocare uno contro uno, magari con i centrocampisti un po' più chiacchierati del panorama della Serie A e dici, cioè me la sono giocata, senza paura, me la sono giocata, magari ho fatto meglio e quindi ti fa crescere anche Mari come consapevolezza. Io l'avevo già conosciuto negli anni scorsi, comunque ho sempre fatto i ritiri, ho sempre visto che c'è stata una gestione molto positiva del gruppo, cioè io ho visto negli anni un gruppo che si è creato, cresciuto sempre di più, si è amalgamato e in cui si lavora davvero bene. Negli anni scorsi magari non ero pronto, anche lui stesso l'anno scorso, mi ricordo che è Mari, ti ha consigliato di andare giù? Mi ha detto che ho avuto una buona scelta di andare a Torino, che avrei trovato un mister che mi avrebbe aiutato a crescere e spero che sia stato così. Con il mister Pioli abbiamo un buonissimo rapporto in cui mi consiglia sempre dove poter avere quel margine di miglioramento che deve essere costante. Ogni volta devi trovare un obiettivo, uno stimolo in più per migliorare e in più una gestione del gruppo che è veramente ottima perché all'interno del gruppo capiamo proprio quando c'è da andare forte, da allenarci e quando magari anche capire i momenti visto che abbiamo così tante partite in cui magari bisogna scendere un attimo per recuperare meglio per poi fare il giorno dopo l'allenamento ancora più forte che per migliorare. Un'emozione grandissima. Siamo andati a vedere infatti la partita di Champions Milan-Dinamo Zagabre in cui ha segnato il primo gol col Milan in Champions. è stata veramente un'emozione che non è uguale. Tutto lo stadio che urla il suo nome è brividi, brividi. Nostro Nostro è Noi dilettanti facciamo tutto quello facciamo su tantissimo e tantissime persone sull'aspetto del volontariato quindi quando hai una gioia del genere ti ripaga di tutto quello che che fai in definitiva. Una cosa molto bella anche quella che ho visto poco fa la foto la dedica che hanno fatto i bimbi pulcini di adesso che seguono un po' da tifosi al percorso di Tommaso perché poi il sogno per loro è emularlo. Eh beh certo quando loro scoprono che c'è qualche ragazzo che arriva a questi livelli, parliamo di quel gruppo noi abbiamo altri due che fanno i professionisti ma non a livello di Serie A quindi quando un ragazzo che è nato qua arriva in Serie A è evidente che è un po' il fiore all'occhiello ma è anche l'emulazione che i bambini cercano di averne. Ti ho detto un esempio in qualche modo. Certo, certo, certo. Dovessi dirmi l'idolo è più l'idolo che hai nel basket o l'idolo che hai nel calcio? No, più nel basket. Lebron James da quando sono piccolo perché fondamentalmente da quando ho iniziato a seguirlo io, che magari ha avuto dieci anni, lui era già ai top. Hai fatto tutta la carriera? Eh più o meno, dai mai mi sono perso i primi anni, quando posso mai mi sveglio la notte per vedere le partite se no me le registro, è un bel divertimento, mi piace molto. Allora troppo facile dire Ibra è il Lebron della Serie A del calcio, non so se sei d'accordo con il paragone o se no, però posso chiederti, puoi dirmi se hai avuto un idolo invece dal punto di vista calcistico e se hai trovato al Milan qualcuno che magari era curioso di conoscere come c'è. Spesso mi hai fatto questa domanda e non ho mai avuto un idolo proprio a livello di caratteristiche o di proprio di dire guardo lui perché voglio imparare, però da piccolo mi ricordo che avevo questa passione per Pescema Stiger che... Vabbè, bel giocatore. Sì, poi non so, io ero da piccolo ancora più biondo, ero in mezzo al campo, quando mai vedevo le partite vedevo lui, il biondissimo, in mezzo al campo che correva a destra e sinistra, forte così, mi cadeva sempre tutto l'occhio su di lui. E poi al Milan comunque sono tali tanti giocatori. Ibra forse è quello che più mi incuriosisce, che mi ha incuriosito perché voglio vedere da vicino anche nei particolari, non so, in palestra o post allenamento cosa fa oltre alla partita, che mai la partita la vede chiunque e più voglio vedere il 360 gradi di cosa fa per essere così forte ma anche così prestante. Comunque, all'età che ha, non è usuale vedere giocatori così in forma o così prestanti. Ma quello che ti ha colpito invece di più, che non ti aspettavi? A me ha colpito tantissimo Mike, ma non perché non me lo aspettassi ma perché non lo conoscevo, che è diverso. Io non sono uno Tomari che segue così tanto anche i campionati stranieri e quindi quando è arrivato per me era quasi un po' per tutti. Non lo conosciamo così bene. Non lo conosciamo così bene e quindi per me è stata un'enorme sorpresa ma anche a livello tecnico, proprio a livello anche umano, di presenza che ha in campo con la squadra. Quindi lui forse è quello che mi ha sorpreso di più. Senti, non è sorprendente parlare di scuola con te, di università. Devi aggiornarci perché sei uno dei pochi giocatori che hanno proseguito il programma di studi facendolo anche in una materia importante. Quindi raccontaci un po' come va. Sì, io quando ho finito nel superiore ho preso un anno in cui me lo sono preso più libero e poi ho ripreso a fare una carriera universitaria, mi sono iscritto all'università telematica, a facoltà di economia aziendale. Inizialmente è nato anche come un piano B, comunque è sempre incerta la carriera del calciatore, può andarti bene come può andarti male e quindi ho detto io comunque un percorso voglio farlo. Così mal che vada io un mio attestato ce l'ho e se in futuro decidessi che voglio smettere perché mi sono stufato, perché non ho più quella passione che ho di allenarmi e andare così, io un piano B ce l'ho e sono sempre libero di poter fare quello che voglio. L'ultima domanda è che è canonica classica per il nostro format perché tu in questo momento sei un po' un modello. sei giovane, sei arrivato in un palcoscenico importante devi confermarti, però torna al Tommaso che ha 13-14 anni e ha davanti tutto da conquistare e guardando in faccia i ragazzini che ti stanno guardando digli qualcosa di vero, di sentito, di utile per loro perché non tutti pochi di loro arriveranno, di quelli che lo sognano, però tu sei l'esempio come alcuni ragazzi sono cresciuti in storia giovane del Milan e sono arrivati in prima squadra, che è possibile. Una cosa che negli anni ho sempre pensato e quando mi è stata chiesta una cosa simile, ho sempre riportato il fatto di non trovare mai alibi. Una cosa che veramente secondo me è fondamentale perché negli anni troverai sempre magari il periodo che non giochi, il periodo che mai le cose non vanno tanto bene. Tu che sei in prima persona sai come stanno le cose realmente, sai se non giochi perché magari non ti stai allenando così bene o qualcuno in quel momento è più pronto di te. e il fatto di non trovarsi alibi vuol dire io devo lavorare di più, vuol dire non sto giocando ok, faccio in modo di ascoltarmi cosa dice il mister, faccio in modo di migliorare sui miei punti deboli perché io non ho mai visto un mister che vuole perdere. Se fa delle scelte è perché magari sono quelle che in quel momento reputa migliori. Poi che siano giusto e sbagliate sono quelle, tu devi accettarle e dopo fare il meglio. È troppo facile dire colpa di non sono, non ho fatto bene questo mese per quel motivo, non ho fatto per quello. Tu fai il tuo massimo, poi secondo me le cose alla lunga arrivano. Come lo vediamo in tv, lo vediamo sui giornali, a noi ci pare ancora un sogno che sia arrivato fino a lì, quindi gli auguriamo che continui per questa strada e che abbia, continui ad avere le sue soddisfazioni. Rimanendo sempre Tommaso, sempre lui comunque che non cambi più di tanto perché ci piace come è diventato insomma.